Buongiorno gente bentornati nel canale qua da noi oggi siamo in un nuovo video di pokemon dcg online ed è sono un paio di un paio sì forse una settimana che non vi porto un video su questo gioco e signori oggi siamo qui con un nuovo spacchettamento di ben 30 bustine più questi due bei bauli che andremo subito ad aprire già da adesso che sono quelli più rapidi quelli proprio così rapidi rapidi vediamo la carta cos'è non mi aspetto nulla di chissà cosa oddio wow ok non è male questo benet qui non ha fatto male carino dopo guarderò meglio è uno starmi fatta la cavolo così allora ho veramente tanta roba come potete vedere sono ben 30 bustine e wow sono veramente tanti io direi di andare buo apriamo le apriamo a caso facciamo proprio un video molto molto rapido perché i pack opening vanno fatti rapidi perché non voglio far uscire video lunghissimi dunque vediamo di trovare qualcosa di decente wow bello questo nome bat qui mi piace molto molto carino fosse in mascella non mi serve e l'ultima carta un drapion ok questo è piuttosto figo allora scusate se parlo parlerò abbastanza rapidamente però va bene il pack opening cerco di fare più presto possibile vi ripeto ora andiamo con vapori accesi l'ultima espansione che devo dire ho quasi finito perché come vedete c'ho quasi tutte le carte ok ho un luce nuova ancora sto among us mi perseguita non è possibile ok forse vediamo un po crogank oh figo molto molto carino come è fatto e un eye dragon ok dovrei avercelo già con l'eye dragon se non mi sbaglio ok vediamo adesso paw near drift un silo marip qualche cosa random un silio e un pyroar niente neanche neanche su queste ma ho trovato niente di particolare ok allora adesso andiamo apriamo questa qui di nero e bianco vediamo un po boundaries crossed abbiamo trovato keldio x full art l'altro se non mi sbaglio era su questa bustina qui se non ricordo male vediamo un po figo questo è bello ho detto mi piace dopo vedrò com'è e un dusk noir ok dusk noir ne avevo già uno che però non mi piaceva tanto e penso che andrò a sostituirlo con questo perché sembra molto più potente perfetto ok oggi abbiamo iniziato abbastanza leggeri a quanto pare vediamo un po figo flygon bello questo molto molto bello molto carino quel flygon devo dire mi piace dunque vula bp dov gloom serva è molto carino vediamo ok wow che figo se questa carta è segnata a cure mnery x i suoi pv massimi diventano 300 boia ok vediamo l'ultima un glidesgore molto molto semplice ok andiamo con nero e bianco cos'è il nome emerging power poteri emergenti con bravery di copertina vediamo un attimino cosa ci troviamo sandal di nuovo un clang niente male vediamo che è un simpur inutile e un simsir mamma mia che pacchetto da 4 wow wow dunque vediamo l'ultimo video guarda cosa ci riservano un livani inutile e un altro solo che è anche abbastanza carino però non me ne faccio nulla ok next destinies di nero e bianco stavo dicendo non abbiamo ancora trovato un aiex o una full art così proprio wow un po' pinigal quanto bruttino e un bay game questi pacchetti mi stanno facendo venire male mi speravo di trovare qualcosa di carino e invece ci troviamo un perso oddio quel person lì anche abbastanza forte se devo essere sincero e voilà cricket niente di che l'ultima carta ok ma ce l'ho già ultima di nero e bianco quell'espansione la che non mi ricordo più perfetto kirli apidav e l'ultima un simsir mio dio dark explorers di nero e bianco dai dio santo perché questo video qui è veramente un supplizio Dio santo non ho trovato nulla 30 pacchetti avevamo e 30 pacchetti 30 vabbè lasciamo perdere un figo questo giolto è un crostol molto molto carino Oddio sì 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 grazie a dio non ci credo dark cry ex Dark cry in sfondo di bustina e l'abbiamo ovviamente trovato perfetto ci siamo ripresi Ok l'abbiamo proprio chiamata la ex l'abbiamo assolutamente chiamata figo venusor molto molto carino e l'ultima è un hitmore Ok veramente tanta tanta roba quel dark cry potrebbe risultarmi molto molto utile dato che comunque c'ho il mazzo buio e E sì ci potrebbe stare dunque nero e bianco dragon ex exalted ed è l'ultima di nero e bianco dunque l'ultima Della della quinta gen dunque vediamo un attimino ghiratina cosa ci porta un ghibol molto figo oddio che figo slakut Oddio quanto sei bello pure i gabaiet abbiamo trovato molto molto carino e un sedinja che se non sbaglio dovrebbe valere qualcosa Non fa schifo il sedinja lì poi magari me lo guarderò meglio andiamo con alakazambistini incrociati e non mi anzi avevo registrato però poi l'ho cancellata Quella che mi piace perché vabbè ceste avevo trovato su questo pacchetto proprio alakazami ex mega alakazami ex che poi ho scambiato per un'altra carta che mi serviva dunque un loadread Vabbè ok va bene abbiamo chiamato alakazami e abbiamo trovato alakazami full art Ma che ho? Tipo wow è bellissima sta carta dovrebbe essere anche strarara oh mio dio santo ok va bene diciamo che questo che questo pacco opening si è rivelato un po' più carino Perché ce l'abbiamo trovato alakazami ex full art e un dark cry ex wow tanta tanta roba veramente No niente male niente male un bel po' di carta un furfrù un pochetto strano le gambe mentale come un extra che sono sti di tutte robe Oh fighissimo questo gli optail non via li trovo che bello che gli optail vediamo la penultima carta Un hunchcro che avevo già attenzione un musciarna che merda Ok due ex in 30 pacchetti però cioè oddio no non 30 adesso dobbiamo ancora vedere ce ne rimangono ancora una decina tipo credo quel cosina di meno Però ce ne rimangono ancora ma è andato abbastanza maluccio circa però per quelle due ex lì ovviamente tanta roba E attenzione un meluetta wow molto molto carino e l'ultima è un knocktowl ok niente di che Ok ce ne rimangono esattamente 10 andiamo con questa di scontro primordiale L'ho pre l'ho comprata dallo shop sperando di poter trovare un ipotetico graudon o un ipotetico Archeo po archio risveglio arco pokemon roba così vediamo un po che è una zoomare il poco poco bello In wall rain che ne ho già tipo 86 ho tirato un pugno in microfono ma non mi interessa Dunque ne rimangono 9 facciamo 1 1 e 1 dunque andiamo con mega tyranita di antiche origini E ti prego portami bene ti voglio tanto bene se un pokemon tanto tanto bello Dunque anche questo pacchetto deve essere tanto tanto bello ok in biancarullo Ok un nome poco poco semplice e un regiroc Oddio cos'è adesso il pokemon te lo ti faccio un poco come ok wow carina quella mossa di niente male Andiamo con mega rayquaza EX di furie volanti Oddio che brutto che sei Ok il mio pokemon preferito Greninja turbo crash Dio santo ti prego dammi qualcosa di decente Perché seriamente altrimenti ti stronco Allora greninja uh molto carina questa lapras Ti prego Greninja Dio santo cammello di merda Lo sai chi ti saluta un casino proprio? No chi? Sto cazzo Ok mega tyraniter un'altra volta dai ne mancano sempre di meno Abbiamo trovato solo 2 ye- Oddio solo per modo di dire però solo 2 ye- 2 golurk E che schifo Mi sta avvenendo il cancro al cervello Guarda il cagli occhi scusate per guardare sta roba Cioè non stiamo trovando niente Dio santo io che pensavo di trovarmi Gesù Cristo in 30 pacchetti Ok wow bello altare Sembra una di quelle donne che si rifanno brutalmente le labbra Ma va bene lo stesso Scelgo molto molto carino come l'hanno fatto Ancora questa banetta brutta E sto cazzo di pezzo di roccia Mio dio che palle Non è possibile Green ninja Cioè portami un po' di fortuna te almeno Ti prego seriamente Ok Oh che fego bellissimo Suduto in mezzo di Trevenant Slowbro molto carino Vediamo terzo occhio del sensitivo Scegliere attenzione Shiftry Ok mancano 3 bustine Dobbiamo trovare 3 yex in 3 bustine Ce la faremo? No Dunque vediamo un attimino Quagsire Kirlia che cerca di pregare Questa carta farà schifo Io bestemmio Porco d***o Raiquaza Mega Raiquaza Ci devi portare fortuna Cioè insomma Sei uno dei Pokémon più forti del gioco Dovrei pure darci qualcosa di carino Un Absol Dai ultima carta Un altro Absol Ma sei serio? Ultimo pacchetto Mega Greninja Magari Greninja Ti prego Non taglio niente Non taglio niente Non taglio niente